Un attrezzato e moderno centro servizi trasporto nell'area retroportuale del molo polisettoriale di Taranto è l'ultimo cantiere della Zess Ionica Interregionale di Puglia e Basilicata, la cui consegna segna l'epilogo del percorso come singola zona economica speciale prima del passaggio alla Zess Unica sancita dal governo Meloni e dell'accorpamento dunque delle otto Zess del sud sotto una cabina di regia centralizzata a Roma. Un passaggio che sarà evidentemente graduale e giunta a mezzo stampa la notizia della proroga di due mesi per i commissari. Questa proroga sicuramente riveste la caratteristica di essere tecnica perché non abbiamo letto il DPCM che è stato annunciato già dalla stampa ma si pensa sia un affiancamento a quella che sarà poi l'operatività della nuova struttura di missione. La Zess continuerà ad operare fino a che i poteri mi saranno conferiti in modo tale da garantire sicuramente affiancamento e continuità a tutte quelle autorizzazioni in corso ma anche a quelle aziende che vogliono continuare ad investire. Poco più di un anno di lavoro e tanti risultati raggiunti tra aziende intercettate per lo sviluppo delle aree interessate in Puglia e Basilicata, i cantieri avviati, l'aumento dell'occupazione, l'apertura dello sportello unico digitale per le imprese, tutto nel rispetto dei tempi del PNRR con 108 milioni complessivi di investimenti. Uno dei fattori di successo della Zess è stato sicuramente il coinvolgimento e la condivisione di questo percorso con tutti gli attori protagonisti del territorio. Questo ha garantito la consapevolezza che la pubblica amministrazione non è soltanto generatrice di servizi ma anche generatrice di politiche pubbliche governando le relazioni. Questo è un meccanismo virtuoso perché la Zessunica in questi 15 mesi è riuscita a generare un sistema mettendo a fattore comune tutte le competenze diverse del nostro territorio. Questo è un fattore di successo e auspico che con la Zessunica non venga disperso. Grazie.